70.000 nuovi alberi nel territorio metropolitano perché 70.000 nuovi alberi per contrastare i cambiamenti climatici, per assorbire la CO2 e gli inquinanti delle aree di pianura in zone soggette a procedura di infrazione europea, per produrre ossigeno e migliorare la salute dei cittadini, per creare servizi ecosistemici e nuovi paesaggi per gli urbani. Grazie a tutti.